Un momento molto importante per noi oggi perché inauguriamo la nostra BG Art Gallery, un punto al centro di Milano dove vogliamo continuare a promuovere e valorizzare la cultura e l'arte. Un punto di arrivo dopo un percorso di tre anni ma anche un punto di partenza per cercare di aprire una nuova finestra sul mondo dell'arte e della cultura. Un giorno per noi particolarmente importante perché si unisce anche ad un grande evento nella città di Milano che è la partenza della Milano Art Week, un momento importante dove viene valorizzato a livello nazionale e internazionale il patrimonio artistico e culturale del nostro paese e non solo. Banca Generali non solo vicina al patrimonio delle famiglie italiane ma sempre più vicina anche alle iniziative culturali delle città più importanti del nostro paese. Banca Generali non solo vicina al patrimonio AUPEF